Sara Affifela cambia vita per il nuovo fidanzato Vittorio Parigini pendolare per amore. Le ultime news sulla coppia.l'extronista di Uomini e Donne Sara Affifela ha di recente riso pubblica la sua nuova relazione con il calciatore Vittorio Parigini. E come si suol dire, nuovo amore, nuova vita. Una vita da pendolare a quanto pare. Sì perché il centrocampista e attaccante del Torino vive infatti in Piemonte mentre Sara abita ancora con la famiglia Aisernia, nel Molise. Dunque per il momento si tratta di un amore a distanza. Di quelli in cui si è costretti a ritagliarsi piccoli momenti di felicità che spezzano la quotidianità di una vita lontana dalla propria dolce metà. Qualche giorno fa l'ex di Temptation Island è stata avvistata all'aeroporto di Napoli in direzione Piemonte. Sara avrebbe raggiunto il fidanzato che ha debuttato nella prima squadra, in Serie A, dopo una lunga gavetta nella giovanile. Sara e Vittorio un nuovo amore quello tra Sara Affifela e Vittorio Parigini, nato dopo l'esperienza di lei come tronista della trasmissione televisiva Uomini e Donne, sembra diventare ogni giorno più serio. E, viste le difficoltà create della distanza, non è esclusa un imminente progetto di convivenza. Si mormora di un trasferimento della ragazza a Torino, dove il fidanzato vive e si allena. La città è in effetti molto vicina a Milano, dove Sara potrebbe continuare a lavorare come modella e testimonial di alcune aziende. Ma qui potrebbe portare avanti pure il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Web Sara e Luigi Mastroianni si scontrano alla ragazza, e frequenta la facoltà di scienze infermieristiche, non ha mai nascosto il suo sogno di sfondare in tv. Un sogno che l'aveva condotta negli studi di Maria De Filippi, da cui era uscita al fianco di Luigi Mastroianni. L'ex corteggiatore, scelto come protagonista della nuova stagione della trasmissione, prima di sedersi sul trono, ha avuto un acceso confronto con Sara in persona. Il ragazzo, durante la registrazione della prima puntata, ha ribadito di aver avuto molti dubbi sulla sincerità di Sara che, con lui, potrebbe aver finto dopoprima, durante e dopo la scelta.Sara Affifela chi è il fidanzato Vittorio Parigini ha 22 anni come Sara Affifela. È nato a Moncalieri e gioca fin da quando era un bambino. Cresciuto nelle giovanili del Torino, qualche anno fa ha giocato nella Juve Stabia, nel Perugia, nel Chievo, nel Bari e nel Benevento. È tornato al Toro quest'anno, con un contratto che durerà fino al 2020 lo stipendio del giocatore è di circa 220.000 euro a stagione.